Ed ascoltiamo adesso proprio Domenico De Rosa, amministratore delegato della SMET, che si è classificata tra le prime 30 aziende della classifica di Price Waterhouse Coopers. Lo ha intervistato il vice direttore Antonio Enrico in merito alla sua attività all'interno di ALIS, quale coordinatore della Commissione sull'intermodalità marittima. L'Associazione per definizione dialoga con la politica. Cosa chiede in particolare una Commissione importante come la sua ai decisori pubblici? Sicuramente quello che noi dobbiamo fare come associazione è quello di rendere consapevole la politica di quello che rappresentano le autostrade del mare, che sono un'eccellenza italiana nel mondo e con un armatore come Grimaldi che ha gestito con un anticipo di 30 anni il momento ecologico. Per cui noi dobbiamo rappresentare al meglio le esigenze e questo ALIS lo fa per definizione attraverso dei documenti, quindi con grande pragmatismo, grande serietà e soprattutto in maniera costante. Lei conosce molto bene anche il mondo della portualità. Cosa servirebbe ai porti come Livorno, Salerno o altri scali strategici per fare quello scatto di competitività e competere appunto a livello internazionale? Sicuramente gli scali devono essere capaci di assorbire queste capacità che vengono poi imbarcate e sbarcate. laddove si creano, come purtroppo in Italia non di rado, tra i porti soprattutto della Liguria e della Toscana, dei coni di bottiglia perché i numeri di veicoli sono effettivamente sempre in crescita, rischiamo di alterare la competitività di questi strumenti. Per cui l'invito è alla sensibilità dei retroporti e delle aree portuali a rendere compatibili queste aree con quelli che sono poi gli effettivi numeri di tonnellaggi che le navi riescono ad assorbire. Quindi una grande attenzione a questa fase che è una fase chiave per il successo delle autostrade del mare. Grazie!